carissimi fratelli e sorelle amici cari pace del signore a voi tutti una buona giornata oggi è 11 dicembre e vogliamo leggere con l'aiuto del signore quanto è scritto nel libro del profeta geo al capitolo 1 ci soffermeremo sul verso 9 dove troviamo scritto voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via perché dice il signore degli eserciti a motivo della mia casa che in rovina mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa come tutti quanti sappiamo ci sono delle leggi ben precise che regolano l'universo delle leggi che riguardano poi anche il mondo nel quale noi viviamo e delle leggi che riguardano ognuno di noi leggi di natura chimica fisica eccetera e tramite queste leggi è possibile spiegare molte delle cose che succedono le possibile anche prevedere eventi che si potrebbero manifestare c'è ad esempio il famoso principio causa effetto che è noto un po a tutti e cioè un principio che ferma che c'è una stretta correlazione tra due fenomeni per cui il secondo vale a dire l'effetto prodotto dal primo vale a dire la causa esempio sciocco se da un pugno al muro o inevitabilmente io mi farò male la causa il pugno che io do al muro l'effetto e il dolore che io subisco naturalmente un evento prevedibile sulla base di leggi fisiche non è necessario un'illuminazione dall'alto né una profezia perché qualcosa che è basato sulle leggi che dio stabilite che regolano la natura nella quale viviamo se questo è vero nell'ambito del mondo materiale altrettanto vero nell'ambito del mondo spirituale anche qui ci sono delle leggi leggi ben precise che dio ha rivelato per mezzo della sua parola nell'antico come nel nuovo testamento possiamo trovare infatti evidenziati dei principi che ci aiutano a capire il perché delle cose che vengono nella nostra vita e ci illuminano anche su ciò che dobbiamo fare per mantenere effetti gradevoli o per andare eliminare effetti sgradevoli che si manifestano in noi questo popolo stava vivendo un momento in cui si manifestavano degli effetti sgradevoli perché come abbiamo letto loro si aspettavano molto invece c'era poco e su quello che loro portavano a casa dio soffiava sopra qual era la causa la causa è che essi si davano premura solo per la propria casa mentre la casa del signore era in rovina quale poteva essere il modo per evitare che la maledizione di dio continuasse a manifestarsi su di loro tornare a dare di nuovo spazio e importanza alle cose dello spirito alla casa del signore all'opera del signore in quel caso ci sarebbe stato un effetto diverso opposto cioè dio avrebbe benedetto anche il poco e l'avrebbe reso non solo sufficiente ma anche abbondante e allora traiamo subito una breve e rapida considerazione a questo riguardo e cioè l'importanza della benedizione di dio sulla nostra vita è scritto infatti nei proverbi che ciò che arricchisce è la benedizione del signore e noi tutti sappiamo che quando dio benedice inevitabilmente il nostro cuore si sente allegro consolato ma non solo questo da un punto di vista materiale si riesce ad avere ciò che è necessario e da un punto di vista emotivo si riesce ad essere contenti di ciò che dio provvede e possa il signore operare nella nostra vita innanzitutto per poter essere sempre contenti di quello che dio ci provvede anche perché il signore ha promesso che è necessario non ce lo farà mai mancare e poi il signore possa operare nella nostra vita affinché ognuno di noi possa dare innanzitutto spazio alle cose spirituali all'opera di dio al regno di dio al suo progresso senza pensare che tralasciando queste cose noi possiamo arrivare a godere di una vita migliore perché il signore è colui che ancora continua a soffiare e questo fa sì che tante persone che si trovano nell'abbondanza siano insoddisfatte siano sempre alla ricerca di qualcosa di più mentre ci sono tante altre persone che hanno di meno ma che hanno a cuore le cose relative a dio e che sono allegre piene di gioia soddisfatte perché la loro vita è ripiena della grazia e della benedizione del signore e io voglio invitare ciascuno di noi che siamo in questo momento riuniti insieme a riflettere sulla nostra vita siamo come quel popolo che si dava premura alle cose proprie a quelle della casa propria e aveva completamente dimenticato perlomeno stava trascurando le cose relative al regno di dio o siamo di quei credenti che come gesù insegna cercano prima il regno di dio e la sua giustizia sapendo che poi le altre cose gli saranno date in sovraggiunta che il signore ci aiuti ci aiuti ad essere in questa seconda categoria perché da questo dipenderà anche la nostra benedizione e dipenderà anche il progresso nostro personale da un punto di vista spirituale innanzitutto ma non solo se voi ricordate il signore disse a gesù è in questo libro della legge non si riparta mai nella tua bocca medita su di esso giorno e notte perché allora prospererai allora riuscirà in tutte le tue imprese con il nostro cuore ha messo le giuste priorità e in queste priorità dio si trova al vertice l'anima nostra è benedetta e consolata e tutto quello di cui abbiamo di bisogno dio ce lo provele quando questo non avviene ci troviamo nelle condizioni del popolo israele ci aspetteremmo tanto materialmente o spiritualmente parlando ma riceviamo poco ma la colpa non è di dio siamo noi che dobbiamo emendare cambiare le nostre vie in modo tale che il signore torni ad essere colui che regna sovrano nella nostra vita e nelle nostre case che dio ci aiuti in questo giorno e tutti i giorni della nostra vita perché allora saremo benedetti felici e il nostro cuore sarà sempre allegro che dio con la sua grazia e la sua pace ci benedica e ci accompagni ancora in questo nuovo giorno